Mattinata di lavoro per Belen, prima va a pranzo e poi arriva in ritardo in ufficio dove lo aspetta la sorella. Buongiorno signora Antonia, oh è Saurito, è già Saurito? Buongiorno signora Cecilia, la ringrazio per aver ricordato il mio nome. Ma buongiorno, siamo signora dalle 12.30 amore, beh è tardi comunque, bene bene bene, l'appuntamento in appuntamento, Cecilia sei pronta per lavorare? Brava, la mia lavoratrice, a canita, ci si spoglia, insieme il pelle. Tan tan tan, tan 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 che bello che bello che bello. Un paio di video davanti allo specchio per farci vedere come è vestita e poi subito al lavoro. Grazie a tutti.